Musica E tanta buona per tutti ragazzi e ragazze Ben ritornati sui cani di Wagna Oggi qui è il vostro Max che vi darà delle informazioni su questo nuovo pacchetto map Per quello che riguarda zombie perché multiplayer non lo tocco Ma in ogni caso sono robe mie Oggi vorrei parlarvi di questo nuovo perca cola Che è un nuovo macchinario che potremo azionare per 1500 punti Che ci darà un bonus casuale E spesso capitano bonus che in questa mappa qua non ci sono A meno che io non ho ancora visto Tipo per esempio Double Tap, PHD e il Ducky Headshot Che ancora non ho visto da nessuna parte Ma probabilmente ci stanno in giro per la mappa Semplicemente non le ho viste io Per azionarlo serve stare intorno al generatore dove è situato Perché non sempre sta al 4 A volte sta da altre parti Ma comunque si sposta come se fosse un po' la cassa Dopo un tot di utilizzi E niente quindi dopo che avremo pagato 1500 punti Ci darà una bibita casuale A me mi ha dato una volta la Double Tap e il PHD Flopper Un'altra volta mi ha dato appunto la Deadshot da Kiri Che vi posso confermare che c'è anche in questa mappa insomma E niente questa qua era la parte che riguardava questo nuovo macchinario Che si chiama Perca Cola appunto Intanto qui tra poco mi darà il PHD Flopper A dimostrazione di quello che stavo dicendo Ora vi vorrei parlare di un nuovo attrezzo Che hanno introdotto in questo nuovo pacchetto mappa Quindi in Origins Che è presente qua vicino all'M14 Ovvero la pala Allora in giocatori single è prendibile tranquillamente Invece in 4 giocatori ho notato Che praticamente è possibile che soltanto 2 persone l'abbiano Quindi niente Per usarla bisogna andare vicino a uno scavo di macerie come questo Quella dove ci sono i teschi Che sono trovabili per terra in punti da mappa Potremmo trovare bonus come avete potuto vedere Armi anche abbastanza devastanti Tipo l'M12-16 e il DSR-50 O a volte anche la Masur che è potenziata in Abelva E niente praticamente potremmo trovare anche delle imboscate Ovvero zombie che ci spuntano dal terreno E quindi ci potrebbero prendere di sorpresa Ma se avremo la Jugger non ci saranno problemi O anche delle granate innescate Che lì anche se abbiamo la Jugger Possiamo farci veramente tanto male Visto che di solito sono 4 Quindi niente ragazzi Adesso vorrei semplicemente invitarvi A lasciare un bel like per questo video A restare sintonizzati sul canale di Wanya Visto che a breve caricheremo molte altre novità Riguaranti questo nuovo pacchetto map E niente ragazzi Al prossimo video e non camperate